salve a tutti e bentornati in altro video oggi video collaborazione con le fashion youtubers vi lascio giù nell'info box il link sia al gruppo facebook sia dei singoli canali di ogni ragazza mi raccomando andate a vedere tutti i video che sono molto molto interessanti il tema di oggi è parlare dei prodotti bio e non bio preferiti del periodo e sicuramente sono tanti cominciare subito allora che quando riguarda i prodotti bio inizio con le matite pastello di neve cosmetics che ho fatto vedere anche nei preferiti del 2017 con il mio caso sono ballerina e orchidea spero che abbia messo a fuoco poi per quanto riguarda il viso c'è la crema e brochet all'aloe vera questa qua mi piace tantissimo e molto molto idratante fa egregiamente il suo lavoro poi crema e erboristica per il corpo al oro di baobab all'olio di baobab non so se sia proprio bio però comunque non ha coloranti parabeni siliconi e derivati petrol chimici come potete vedere poi crema viso idratante equilibrante antilucide lucidità di omia sempre all'aloe vera è per pelli normali e miste quindi per me va benissimo è davvero ottima il proprio un pochino stucchevole però si risolve subito quindi va bene poi la crema corpo di il brochet calcio bio al mio e miele veramente idratantissima la uso la mattina perché la sera uso quella la all'olio di baobab quando no dopo che mi sono fatta la doccia in palestra perché quella lilla e non quel borsone la poi questa qua non è dio però comunque è un vegetale questa è la nozione purificante verrà minimizzare i pori di brochet all'aloe vera e acido sassi salicilico ok molto molto buona mattifica veramente la legge interessati io lo faccio sulla zona t poi acqua micellare equilibra è la mia preferita insieme a quella la di provenzali come pensavete strucca alla perfezione tranne le sue stein matt ink io come e ben sapete l'estate l'auto come prodotto unico di skin care perché non sopporto poi l'oliosità provocata da latte detergente creme idratante e tutto il resto poi sto adorando i correttori di puro biglio il verde e il beige eccoli qua questi qua matita che ho comprato di recente nella bio pro famiglia con la mia amica marianna di marianna amica 89 e questo per quanto riguarda i prodotti qui faccio una premessa per quanto riguarda i prodotti da un video comunque cerco di prendere sempre qualche prodotti che sono l'interno vabbè allora i miei gli schetti struccanti di tiger io ne ho parlato in mille video diamo alla foglia ora vedrete anche il video penso il domani uscirà no vabbè voi vedrete prima il video dei finiti e poi vedrete questo questo qua ho appena finito un altro pacco vedete lo vedrete quindi prodotti finiti sempre rapporto ottimo rapporto qualità prezzo con meno di un euro 100 lo truccante bifasico di l'oreal pagato in offerta 2 euro e 90 qualche mese fa mi sembra nel mese di novembre lo adoro però l'otto soltanto per le tinte di meppini perché non sinceramente mi trovo bene con l'acqua micillare per il resto devo per rimuovere il resto dei cosmetici quindi va bene così poi sta durando questo matitone di cost il full matt lipstick numero 08 hd si siete questo colore comunque fa parte della famiglia di nude mi piace tantissimo pur essendo un matitone dalla consistenza molto cremosa dura abbastanza poi il prezzo è veramente irrisorio 53 euro poi dipende sempre il mio vestivo il per lavaggi frequenti che lo porto in palestra l'ho fatto vedere anche nel video what's imagine bag lo metto qui da qualche parte mi piace tantissimo all'ottimo potere in avanti e finora tra i marchi tra i marchi farmaceutici più quella treva farmaceutici per quanto riguarda lo shampoo troppo io ho trovato questo per me è stato il migliore poi sto adorando questo shampoo ultra dolce rivitalizzante effetto detox al verde e cinque piante senza parabeni veramente la quando hai chiuso di massaggiare lo shampoo quando è pieno di previ risciacquare lo senti proprio la foto che respira se ti senti la cute e freschissimo no grande troppo troppo bello il prezzo è una gente la sciocchezza non mi ricordo neanche quanto l'ho pagato questo qua perché ce l'ho da parecchio però penso un altro mesetto mi finisce pure e alle cinque piante sono eucalipto verbena ortica limoni e aloe veramente bellissimo adoro 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 il dermo med all'olio d'argan i dermo med sono i miei bagnoschiumi preferiti in assoluto e questo qua all'olio d'argan e questo qua pesca il frangipane sono i miei preferiti in assoluto anche quello là che ho fatto vedere in prodotti finiti però non l'ho trovato non l'ho trovato più come si chiama al al aloe comunque all'aloe mi è piaciuto con un sacco veramente un altro caso che mi è piaciuto che mi piace ancora però non dimenticato di prenderlo quello la riflessione quello la all'ambra bellissimo l'ho fatto vedere anche nei prodotti finiti di dicembre se non mi sbaglio e l'ho comprata anche di recente perché l'ho trovato top 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 veramente un altro prodotto che sto adorando è lo shampoo splendor addolcente al cocco per tutti i tipi di capelli io inizialmente conoscevo solo il balsamo poi a qualche anno ho scoperto anche lo shampoo un ottimo rapporto qualità pezzo questo qua mi sembra l'ho pagato con il prezzo fidelity ma 70 centesimi ma proprio pochissimo per 300 milo il prodotto figuratevi perfetto poi adoro follemente la combo della linea creati creati in terapia di alta part milano questi sono prodotti professionali mi piacciono tantissimo al olio di babasso e che latina se non mi sbaglio veramente basta pochissimo prodotto grande un puntino e ai risolto il problema è fatto sia lo shampoo e poi con un puntino di balsamo per tre minuti quando vedi fretta perfetto poi sto adorando queste salviettine intime di donna care un pacco da 40 pezzi comprate qualche tempo fa che si scorte nel negozio per casalinghi 70 centesimi una cosa è un prezzo multe frisorio l'ho comprato prima di aprire il canale quindi una vita fa per me ormai è passata una vita di un aperto sono ad ottobre però la comunità è così allargata sto facendo così tanti video che per me è passato veramente una vita dalla nostra del canale consigliatissime se li trovate se trovate queste salviettine è contabile poi sto amando folle mente questo qua far vetri abbinato al fanno vera suo fanno di litri ma è fenomenale veramente un pulito stellare come dice anche la pubblicità veramente non trovi un alone non trovi una macchia sulle superfici dove viene passato top io l'ho comprato di recente in offerta mi sembra un euro e 49 ma veramente il miglior detergente per vetri finora consigliatissimo ne sentivo parlare tantissimo pure qui su youtube tab e anche data lo compro quando sono affetto e infatti di recente mi sembra napilato lo trova tutto non devo prendere veramente c'è cari youtuber e che l'avete sempre consigliato avete ragione è top allora poi sto adorando solo questi band questi diodoranti di tabolo talco abbia portato il tappo io con il nostro danni la profumazione sia quella classica che a questa qua flash e sempre usati sia nella versione tra i gas questa quale con la bomboletta così sia nella versione no gas e sia sia stick e siano loro qualsiasi in tutte le tasse le provate ma queste sono le mie due profumazioni preferite durano tantissimo non fai figurarci quando esci va benissimo un altro prodotto che è stata una scoperta degli ultimi mesi su cui devo ringraziare la canela nel mondo di mella perché perché me le ha fatti conoscere tramite il suo giveaway che ho vinto questo qua è il deodorante una mini freddo durante di cn 48 extra dry 48 ore veramente stupendo stupendo io non l'avevo mai trovato era intanto nella si ringrazio per averne l'ho fatto scoprire perché io non tendo ad andare alla leader che molto lontano la casa mia ma top seria veramente buono veramente buono segni dove si trova giorno nelle vicinanze comprerò nelle vicinanze di vide comprerò la full size poco ma sicuro poi sto adorando letteralmente questa questo questa crema antirughe contorno occhi di orecchino la la caffeina che ho comprato di recente i faccio metti link da qualche parte di quando l'ho comprata veramente una scoperta il mio contorno occhi più gonfio e più disteso top 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 se la trovate compratela veramente buona poi le mie adorate matite per sopracciglia della rebora come ben sapete l'ho detto un milione di volte uso la 282 che la più chiara su questa zona qui delle sopracciglia e sulla colina uso quella più scura io cioè io non lo scoperte sì perché io l'anno scorso a me una profumeria e chiese una matita per le sopracciglia del mio colore mia infida e della commessa l'esterno prendi questa quindi debora vabbè un tempo quello sbaglio prestata una scelta azzeccatissime quando poi chiesi una matita poi per quando avevo i capelli tinti che ho fatto la pentadotta che faccio vedere il link io chiesi una matita ovviamente per quella colorazione non volendo la commessa che era la stessa della volta precedente mi ha dato questa qui perché di debora perché ho detto che non voglio spendere tanto se comunque un colore temporaneo però guarda caso mi ha dato questo tavolo vero allora vado sul sicuro perché io già la uso del mio colore naturale vabbè mi avete capito ho fatto un discorso lunghissimo fatto un discorso lunghissimo per dire due cose come devo ringraziare nuovamente antonella il suo giveaway per questa crema mani sempre di si è deliziosa la tengo in borsetta nella mia casa portatile facendo il video al riguardo questa qui è alla ciliegia asiatica sicure di ciliegio asiatico ottima profuma mi ricorda c'è profuma proprio di yogurt alla ciliegia buonissima buonissima ottima qualità si è veramente fa degli attimi prodotti c'è c'è pure un scusatemi un ottimo racconto qualità stesso poi sto adorando e mi è quasi finita la crema mani del segreto questo cielo sul comodino io beh avevo comprato il giornalino per avere l'omaggio beauty c'è un più pesfizio infatti quando lo dissi a mia mamma mamma lo sai ha preso il giornale segreto e bene ha detto tu hai comprato il giornale del segreto per una crema mani ragazzi si è rivelata un portento è stupenda infatti se dovessero lanciare una linea di cosmetici di segreto io ricomprerò la crema mani veramente trascere la morbidissime me top è un prodotto veramente doppio liberante 12 su 10 peccato che sia stato solo un gadget un fascicolo poi sapete mi amore continuato per questo eyeliner di astra sta iniziando a seccarsi non vedrò comunque pure normale dopo un anno l'ho detto sia anche nei preferiti del 2017 finché non si cerca completamente io non continuo ad usare è il miglior eyeliner mai usato migliore anche di quello di essenzio come prezzo siamo lì lo ricomprerò di sicuro non non lo posso far paragonare con nessuno per me è il migliore poi la io stage idem cioè per me il miglior primer occhi in assoluto lo uso da anni io ripeto sempre ho fatto tanti trucchi anche l'estate non c'è grazie a questo frano i veri di ombretti non sono mai svanite non sono andati nelle riede poi la mia matita dorata di uai con la di black 01 ora si legge solo black 01 perché si è stata comunque temperata questa vista la suggerita un paio di anni fa che anche questa sarà terza e compro quarta ora non ricordo neanche più l'ho regalata anche a mia mamma questa acqua vista la suggerita dalla commessa di uai con del centro commerciale shandy giuliano che su una matita che non praticamente non si muove a faccia effetto eyeliner e lei mi ha consigliato questa qui ha detto questo è un doppio effetto può essere sia usata come kajal sia come eyeliner però completamente se vuoi usarla come kajal come basa ombretto se vuoi sfumare devi fare comunque presto perché altrimenti si fissa in un lavoro e più ragazzi è stato così non ricordo se ho comprato questa qui offerta una o quella marrone perché poi in successi anni se non trovata bene con questa qui nero presa anche quella marrone però sì quella che ho preso la festa questa acqua e a prezzo intero però quando sempre la prima volta l'ho comprata cosa fa non ricordo se quest'altro che mi ha fatto fare senza cosa quando un ottimo consiglio mi saluto dalle commesse di uai con al centro commerciale ocean di giuliano è questo il mascara naughty warrior se non mi sbaglio una novità quando l'ho comprato ha detto prova dai che buono fare l'unità tantissimo fa delle ciglia rinissime e poi comunque era insperta che se ne fredda va bene è stato un ottimo consiglio bravissima quella unica poi un altro mio preferito nel periodo lo avrò detto fino alla noia è la mia palettina di elf di odros gold adoro poi la siside sui tv sempre di elf cioè guardate mi sono innamorata letterale di queste rettine palettina io lo dico sempre la rettina così economiche possono essere così così valide sì 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 stessa cosa per questa acqua di new york color guardate la 944 10 bellissima e anche che ho dimenticato di prendere vabbè quella l'ha dove ho fatto l'ultimo che credi with me di ma ma twins se non mi sbaglio si chiama sempre se i cani del mio due là come lo che ho definito conflitto diciamo la palettina correttiva diciamo che enfatizza i tuoi peggi poi il mio vicinette online il migliore in assoluto e migliore in assoluto perché vabbè a parte relazioni antibatterica cioè veramente è top per me vicinette migliore su questo aspetto con il profumo di live niente a casa io l'ho comprato milioni di volte lo sono spessi una settimana liberco non mi ricordo con vado sun a circa 1 ore e 49 che di solito costa intorno ai due ore settanta in su poi il mantovani l'unica picca che ha questo shampoo qua e che un po al liquido però si può tranquillamente ci possiamo tranquillamente da stare sopra è ottimo la cute per agenti proprio fresca e pulita non consigliare una mia amica che soffre di tantissimo di forfora e comunque lo consiglio veramente a tutti ma che vada si spende meno di un euro ma che paga sono stati buttati pochi centesimi veramente top un prodotto per enti di serie a eppure super low cost veramente è questo qua con piroptone con amine non so come si dice estratti di betulla bellissima è tutto anno poco abbia ovviamente i miei pennelli preferiti di vendere i preferiti cogli amosti quali cinesi e questo dietro l'ho detto fino alla noia poi altri preferiti per quanto riguarda le labbra ho dimenticato di prendere i prodotti allora le super stella pink la 25 la mia preferita in assoluto in questo momento va beh anche la 50 perché comunque essendo un colore un po più scuro lo uso molto di sera make up for ever times square insieme alla matita labbra numero 42 poi vado un altro brutto non ho fatto vedere poi le tinte di astra numero 0 1 e 0 3 ma l'ho fatto vedere anche nel meccato più utilizzato del periodo sempre in collaborazione con le fesce un tupers poi la matita di essenz numero 10 berri on my mind e basta al momento ok adesso è veramente tutto spero che questo video vi sia stato utile vi sia ricevervi abbia tenuto compagnia non dimenticare di mettere la car video commentare scrivete al mio canale attivare la campagna delle notifiche in modo non perdere nessun altro video aggiungervi su instagram e google classic sa qui sotto non dimenticate di vedere il video delle altre ragazze il link come già vi ho detto sono un box di armandumacione c'era un prossimo video ciao ciao